Questo lunedì l'Al Disney ha rilasciato un comunicato stampa in cui dichiara che da ora in poi punterà a far uscire la maggior parte delle sue produzioni solo per il suo servizio di streaming Disney+. E infine venne il giorno. Se mi avete seguito in questi ultimi quasi quattro anni su Fantascientificast dovreste sapere che per me non arriva a ciel sereno questa decisione di Disney. Anzi la ipotizzavo già da molto. Una tendenza del mercato quella di spostarsi sullo streaming che in realtà inizia più di dieci anni fa ma che solo da qualche anno ha raggiunto il punto di rottura. Ma prima di addentrarci nello specifico di cosa comporterà tutto questo, vi siete visti il mio video sulle ultime uscite di ottobre sui principali servizi di streaming in Italia? Cliccando sul punto esclamativo lì in alto potrete trovare altri video che potrebbero interessarvi. Ritornando a bomba. Perché questo annuncio di Disney ha sollevato il finimondo? Perché Disney negli ultimi anni ha lavorato per consolidare il brand accapparandosi tutti gli studi di produzione cinematografica tripla A. Cioè quelle a più alto budget ma estremamente remunerative che riescono a riempire le sale per settimane. Parliamoci chiaro. Ha una potenza di fuoco così ampia da poter contare forse anche su più di un blockbuster al mese. Quando i concorrenti se arrivano a 4 l'anno hanno già fatto tanto. Mi pare inutile a questo punto farvi notare cosa significhi per le sale cinematografiche, soprattutto per le grandi catene e non per i cinema più piccoli che puntano su pellicole de sé. La devastazione. La fine di una corsa iniziata a metà anni 90 e che ora collasserà di punto in bianco nel giro dei prossimi anni. Dico questo perché se la Disney farà uscire solo parte dei suoi film in sala e con un chiaro intento comunque di usarli per attirare e spostare il pubblico dalle sale allo streaming, gli introiti già risicati dei multisala crolleranno perché pure altre case di produzione inizieranno a seguire lo stesso esempio. Certo non sarà la fine del cinema ma per i multisala è arrivato il giorno dell'impatto. Il blockbuster day in memoria di quella catena di video noleggio implosa nel singolo scontro uno contro uno vinto a mani basse da Netflix. Probabilmente dopo i prossimi 3-5 anni rimarrà solo il 40% delle sale nei paesi occidentali legati alla cinematografia USA. Ok non è la decisione di Disney a fare questo ma la colpa ricade anche sulla pandemia che ha ridotto fortemente gli introiti delle catene dei cinema e che ha allo stesso tempo accelerato vistosamente il passaggio dallo streaming non solo per le case cinematografiche ma anche delle persone. Voi adesso mi direte ma perché sostieni tutto questo? Perché io negli anni ho collaborato a tirare su come volontario una sala parrocchiale, proiettato le pellicole in 35 mm, oltre a quello ho pure lavorato in un multisala come proiezionista. Mi sembra palese che parlo con cognizione di causa sapendo come funziona il sistema almeno in Italia. Ho anche un'idea di come si dovranno evolvere le sale per attirare un nuovo pubblico ma su quello non dirò nulla se non mi arriveranno finanziamenti. Solo gli amici lo sanno da anni e in questo momento mi stanno dando ragione. Ci tengo a chiarire prima di passare al futuro dello streaming che Disney non abbandonerà il cinema, semplicemente ci punterà di meno. Dal mio punto di vista è una lenta condanna a morte per le sale. Ecco, ho riassunto il discorso degli ultimi minuti in una sola frase. Vi ho fatto perdere tempo, scusate. Adesso voglio parlare del futuro dello streaming. Ora, con diverse centinaia di milioni di abbonati in tutto il mondo, Netflix la fa da padrone, ma con il cambio di rota di Disney il gap tra le due piattaforme si colmerà molto rapidamente. Dietro di loro altri servizi di streaming accennano a nascere, ma per loro sarà dura, molto più dura, e se posso azzardare l'unico concorrente sarà solo Prime Video. Gli altri si ritaglieranno piccole fette di mercato settorializzato, sono arrivati non tardi, tardissimo, con le piattaforme ancora con problemi e soprattutto non hanno la potenza di fuoco nei loro prodotti. Per quanto riguarda cosa si produrrà, è dura dirlo. Semplicemente prodotti d'avanguardia come The OA di Netflix si vedranno sempre meno. I film saranno curati perché la tecnologia lo permette, ma il budget sarà più limitato e le serie saranno sempre più brevi e soggette a repentine cancellazioni. Se i dati di visione, ora reali e totalmente in mano alla piattaforma, non soddisferanno. Insomma, gli algoritmi prenderanno il controllo e si perderà quell'idea e rischio che ci si poteva essere una volta. La situazione quindi potrebbe essere la stessa che si ha da qualche anno negli anime giapponesi, prodotti tutti similari e confezionati sulle stesse linee guida, che poi verranno presto dimenticati, soppiantati dal nuovo clone. Difficilmente quindi tra 10 o 20 anni si ricorderanno particolari produzioni di questo periodo perché è confuso in un mare di omogeneità. Personalmente spero vivamente di sbagliarmi su questo punto. Inutile poi dire che lo streaming sta colpendo pesantemente anche la tv, che vedo già in affanno da anni nel confronto. Basti pensare che i prodotti di punta sono di intrattenimento e autoprodotti e che addirittura i diritti della Champions per il prossimo triennio in Italia sono ora in mano ad Amazon. Penso che nei prossimi anni ne vedremo delle belle anche lì. Direi che per questo video ho detto tutto, quindi in attesa del vostro like, commento e iscrizione al canale me ne ritorno a cercare qualcosa di cui parlarvi riguardo al Giappone o da recensirvi presente in streaming. Continuate a seguirmi anche su Fantascientificast. Ciao! Ciao!